a lei la parola grazie noi ringraziamo i lavoratori dell'Italseeder di Genova ringraziano i telespettatori ringraziano tutti i signori che sono in sala per l'opportunità che ci è stata data la nostra lotta è la lotta del paese grazie, grazie veramente io sono io che ringrazio voi il palcoscenico non solo vi è stato concesso ma vi si doveva dare grazie auguri